Buonasera, giallo di arce le motivazioni della sentenza d'appello che assolve 5 imputati. Le motivazioni della sentenza d'appello riconoscono la nullità, l'inconsistenza e la totale incertezza dell'impianto accusatorio e di fatto danno pienamente ragione al lavoro svolto dalla difesa degli imputati e della difesa di Emottola. Danno ragione sia alle nostre fortissime e giustissime critiche all'impianto accusatorio e dalla metodologia investigative delle indagini. Di fatto queste motivazioni danno ragione al nostro lavoro del tipo analitico, logico-investigativo, forense, criminalistico-criminologico e di diritto, di alto diritto messo in essere organizzato e dagli ottimi avvocati della difesa. La sentenza ha dato ragione alla difesa degli imputati che Serena non è entrata in caserma per andare da Marco Mottola, che la porta non è l'arma del delitto, che la prova scientifica portata dall'accusa né è prova né scientifica, che contro gli imputati vi sono stati sospetti basati sul nulla, che gli indizi si sono sciolti come neve al sole. Tre considerazioni conclusive voglio fare. Un affettuoso pensiero alla povera Serena Mollicone e dai suoi familiari con l'aspicio che finalmente le indagini vadano a puntare i veri colpevoli e noi siamo pronti a collaborare in tal senso. Due, un ringraziamento alla difesa dei Mottola, esattamente agli avvocati Francesco Germani, Pier Giorgio Di Giuseppe, Mauro Marsella, Enrico Meta, ai consulenti tecnici professor Giorgio Bolino, dottore Enrico Delli Compagni, ingegnere Cosmo di Mille, perito informatico Gaetano Bonaventura, professor Claudio Lavorino Biologo, avvocato Alessandra Carnevale, dottoressa Giussi Marotta e il Cescreen, centro studio investigazione criminale che ho l'onore di coordinare. Punto tre, importantissimo, il sonno della ragione genera mostri e nella fattispecie i mostri sono arrivati e sono esattamente quelli della diffamazione, della calugna, del sospetto, della voglia di forca, della esaltazione del patibolo. Buonasera a tutti.